Oggi siamo a Ferrara in Emilia Romagna per visitare questa città patrimonio unesco e per mangiare i cappellacci alla zucca. Anche voi lo senti. Ecco Ubaldo Golfarelli. Ah, io sono un dormiglione. Sono stanco da quando sono nato, sono stanco, mi voglio seguire. Con la moglie Martina Vallicelli. Con la moglie Martina Vallicelli. La moglie Martina Vallicelli. Sono stanco da quando sono nato, sono stanco, mi voglio seguire. Ciao, sai cosa ti dico? Ciao, è finita così.